Musica Riapre lo sportello pratese del difensore civico regionale, uno strumento gratuito che tutela i cittadini nelle controversie con la pubblica amministrazione e con le società che erogano servizi pubblici. Covid, aiuti e sostegni statali anche se sono le regioni a dichiarare zone rosse locali, lo chiede la risoluzione della Commissione Aree Interne, approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Sostegno alle nuove produzioni artistiche e teatrali, rinnovato l'impegno di Toscana Terra Accogliente. Il difensore civico a Prato Bollette pazze, problemi telefonici o di connettività internet e ancora di servizi legati alla sanità sono solo alcuni dei motivi che possono spingere i cittadini a rivolgersi al difensore civico regionale, uno strumento gratuito di tutela della cittadinanza nelle controversie con la pubblica amministrazione o con le società che erogano servizi pubblici. Da oggi ha riaperto anche lo sportello decentrato pratese, chiuso ormai da anni, che trova nuova collocazione negli spazi dell'URP multiente di Piazza del Comune. I problemi sono tantissimi. Vanno da quelli dell'utente che riceve una bolletta di 20.000 euro, di 30-40.000 euro, come è accaduto lo scorso anni a un'anziana signora dal Servizio Elettrico Nazionale, fino alla copertura della linea internet in alcune zone della Toscana, come il bambino che è dovuto andare addirittura all'interno del bosco nella provincia di Scanzano per trovare la linea internet. Nel 2020 il difensore civico regionale ha gestito 2.300 pratiche e nel 2021 la crescita, anche a causa della pandemia, è esponenziale visto che si viaggia su una media di 250 domande al mese. Le richieste possono essere mandate per mail, PEC o si possono chiedere informazioni attraverso il numero verde. Allo sportello di Piazza del Comune le persone che hanno più difficoltà con la tecnologia saranno aiutate nella compilazione delle domande. La pratica dal sistema centrale viene presa in affidamento in 24 ore, mentre la risoluzione del contenzioso può durare anche mesi. Una funzione importante che torna sul territorio, in un'ottica anche di una provincia che torna sempre più attiva sul territorio e che offre servizi ai cittadini. In particolar modo questo, spesso da cittadini ci si trova persi nei meandri della burocrazia, quando ci si rivolge a un gestore di una bolletta della corrente, piuttosto che della telefonia, piuttosto che altro. Ecco, la burocrazia è una cosa contro la quale vogliamo combattere in un'ottica di semplificazione. Questo sportello quindi rappresenta un passo in questa direzione, quindi una direzione di prossimità e di semplificazione. Anche la regione si è mossa per far sì che lo sportello decentrato del difensore civico potesse aprire anche a Prato. Beh sì, direi che è partito proprio dalla regione nella scorsa legislatura, poi si è fermato purtroppo a causa della pandemia e anche delle elezioni, avevamo attivato una collaborazione con Sandro, che è il difensore civico regionale, che abbiamo visto testato sul campo come persona disponibile e pronta e attenta anche alle sensibilità dei territori. Quindi lanciai proprio qualche mese fa l'idea di riaprire uno sportello a Prato. Parlo di riapertura perché molti si ricorderanno che il difensore civico provinciale era un'istituzione presente fino a qualche anno fa. E adesso avere di nuovo sul territorio un presidio a fianco delle istituzioni e che dia una mano ai cittadini, specialmente alle persone più fragili che si devono un po' destreggiare nei meandri anche degli enti pubblici, delle varie compagnie, enti o altro, abbiano a loro fianco una persona che li sa guidare e accompagnare. Questo serve sia ai cittadini che alle amministrazioni. Con l'apertura dello sportello a Prato, come migliorano le cose e come diventa più efficiente il sistema? Con questo strumento nuovo sarà possibile avvicinare l'istituto dei difensori civico regionale al territorio perché fino adesso era un'istituzione accentrata soltanto a Firenze. Ora invece i cittadini potranno recarsi al nostro URP multiutente del Comune di Prato che è in collaborazione anche con la provincia e avere tutta l'assistenza necessaria per presentare le stanze che si vogliono rivolgere al difensore civico regionale. I nostri dipendenti raccoglieranno le richieste, verificheranno le domande, raccoglieranno anche la documentazione che deve essere presentata e si mettono a disposizione anche per farla avere digitalmente al difensore civico regionale, per cui le persone che magari hanno difficoltà a recarsi all'ufficio fiorentino oppure anche a utilizzare gli strumenti tecnologici che servono per scannerizzare i documenti e fargliela avere avranno nell'URP di Prato un punto di riferimento e un sostegno. L'URP multiutente si mette a disposizione della cittadinanza per facilitare le pratiche per il difensore civico. Esatto, è un ulteriore servizio che un URP che già è piuttosto denso di attività verso la cittadinanza offre, grazie alla collaborazione con la regione toscana e la provincia di Prato, il comune di Prato e ovviamente il servizio è disponibile anche per gli altri cittadini degli altri comuni della provincia, possono rivolgersi allo sportello multiutente per avere la possibilità di essere accompagnati in caso di discussione verso l'ente pubblico, qualsiasi esso sia, o anche, come diceva appunto prima il dirigente del difensore civico toscano, per bollette o comunque vada di atribe verso la pubblica amministrazione. È un servizio in più, quindi di questo bisogna esserne contenti. Ristori per le aree rosse. Nel caso in cui siano le regioni a dichiarare, in funzione del contenimento del contagio, zona rossa, alcuni territori, siano previsti in modo chiaro i meccanismi di aiuto e sostegno statale in favore delle attività produttive e commerciali che ricadono in quei territori. Lo chiede il Consiglio regionale della Toscana in una risoluzione della Commissione Aree Interne che impegna la Giunta regionale ad attivarsi in questo senso nei confronti del Governo e del Parlamento, sollevando la questione anche in conferenza delle regioni. Le zone rosse locali dichiarate dalla regione coinvolgono in Toscana circa 100 comuni, fra cui quelli di aree interne e montane, le cui attività economiche sono state particolarmente colpite e chiedono meccanismi automatici di ristoro. Questa risoluzione nasce da tante sollecitazioni di piccoli comuni del nostro territorio perché il Governo Draghi ha previsto in modo più dettagliato la possibilità per le regioni di istituire zone rosse locali a carattere provinciale di zona distretto e chiaramente più che una possibilità trattandosi di provvedimenti che vanno a tutelare la salute pubblica è un dovere per un amministratore pubblico e quindi il Presidente di Regione giustamente le ha adottato questi provvedimenti e li sta adottando. A parimenti noi abbiamo chiesto che il Governo, visto che proprio nei prossimi giorni avrà la possibilità di chiedere al Parlamento un nuovo scostamento di bilancio, ancora più importante del precedente, preveda dei meccanismi per le attività delle zone rosse locali che hanno visto un'interruzione della propria attività maggiore rispetto ad altri territori. È un provvedimento utile, come al solito, se in conferenza a Stato-Regioni cerchiamo di rendere giustizia alle comunità che abbiamo ulteriormente aggravato di chiusure durante l'ultimo periodo. Rispetto a questo testo, che i fratelli d'Italia comunque ha votato, speriamo, come abbiamo proposto in sede di Commissione, che nelle impegnative, qualche volta, si impegni la stessa Regione Toscana a dare quelle risorse che si chiedono al Governo centrale. Sarebbe un passo in più, anche perché nel caso specifico noi andiamo a chiedere al Governo di intervenire da dove la facoltà poi di chiudere in senso più restrittivo viene concessa alla Regione, quindi nel momento in cui la Regione che mi va a restringere un territorio che da arancione potrebbe rimanere e mi diventa rosso, beh, in qualche modo, potrebbe essere chiamata se stessa anche in causa e affiancare quelle che ne sono le risorse del Governo per aiutare nelle aree interne situazioni che già di partenza non sono per definizione agevolate. Abbiamo un esempio con la montagna pistoiese. Noi siamo stati a Pistoia Rossi per molto tempo regionalmente, quindi le attività della montagna pistoiese, già venendo da due annate senza aver fatto niente, si sono trovati veramente in condizioni disastrate. Quindi abbiamo votato all'unanimità questa Commissione, speriamo che il Governo dia dei fondi in più per queste zone rosse regionali e quindi che la Regione le destini in particolare a queste zone interne marginali. Io ho detto che forse la Regione poteva pensarci da subito a dei ristori per le zone rosse regionali. Infatti avevamo votato una mozione in Consiglio quando fu istituita la prima zona rossa regionale, a Chiusi. Aveva portato la mozione il Presidente Scaramelli, fu votata all'unanimità proprio per dare ristoria alle zone rosse regionali. Quindi se il Governo non dovesse darle, si spera che sarà poi la Regione a superire a questo. Arte Toscana Terra Accogliente Un progetto di rete che potenzia il meccanismo delle residenze artistiche della Regione e che propone un'azione diffusa in tutto il territorio. La Toscana diventa così terra accogliente con gli artisti e offre loro occasioni per valorizzarne il lavoro. Si tratta di un progetto unico a livello nazionale per il numero e le caratteristiche dei soggetti coinvolti, rivolto al sostegno di nuove produzioni artistiche e teatrali e alla loro circuitazione, l'iniziativa di Toscana Terra Accogliente con l'ospitalità delle cinque compagnie vincitrici della prima edizione del Bando nei teatri delle residenze artistiche della Toscana è stata presentata nei giorni scorsi a Palazzo del Pegaso. Tante donne e tanti uomini non hanno potuto svolgere la loro attività e io sono felice oggi qui di poter dare via al progetto Toscana Terra Accogliente un lavoro lungo un anno, un lavoro fatto con le residenze artistiche che sono risultate vincitrici, un lavoro che mettiamo a disposizione la collettività della Toscana. Ci piace l'idea di presentare un'iniziativa che è un segno della resilienza e della resistenza di questo territorio e devo dire resistenza e resilienza ci rendono umani insieme alla cultura. Io sono molto grata agli operatori che l'hanno resa possibile, alla rete di tutte le residenze teatrali, i centri di produzione, le compagnie che hanno lavorato a questo progetto che porterà in scena cinque compagnie avincitrici del bando per 25 repliche complessive con quasi 200 ore di residenze teatrali. Alla prima call del bando hanno partecipato 351 progetti teatrali inediti con proposte da tutto il territorio nazionale. Ad ogni compagnia selezionata è stato riconosciuto un contributo economico di 7.100 euro, oltre all'alloggio e all'assistenza tecnica. Il progetto che si svilupperà nel 2021-2022 prevede inoltre un possibile successivo investimento da parte del Teatro Metastase del Centro di Produzione Virgilio Sieni e la circuitazione per almeno cinque repliche di uno o più dei lavori prodotti grazie all'impegno della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. Il progetto Toscana Terra Accogliente è un unicum a livello nazionale nel senso che mette insieme i centri di residenza dove gli artisti si trovano a provare, a sviluppare i loro progetti di spettacolo, ma li coordina insieme a tutto un sistema che riguarda anche la produzione, ovvero i centri di produzione della danza di Virgilio Sieni e il Metastasio di Prato e anche il circuito regionale della Toscana. Quindi copriamo tutta la filiera. Gli artisti vincitori di questo bando hanno la possibilità di avere per 200 giorni dei teatri della Toscana in cui provare i loro spettacoli, hanno dei centri di produzione che li aiutano a produrre il loro spettacolo e hanno il circuito che li aiuta a circuitare con questi lavori. La rete delle residenze artistiche della Toscana sono 22 residenze artistiche che lavorano in 8 province della nostra regione in quasi 80 spazi teatrali, piccole e medie che vanno da 99 a 500 posti e lì fanno un'attività continua giornaliera di produzione, programmazione, formazione, promozione e ospitalità di residenze temporanee che è l'oggetto del progetto che presentiamo stamattina. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.